buongiorno nuova avventura sono a bologna istituto per i grizzoli appena fatto la visita e adesso vado a bologna centro batteria del tri ride carica gps impostato freni funzionanti adesso mi faccio un bel giretto una bellissima discesa speriamo che regano i freni buona visione a più scuro inglese griglia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nuovo record di velocità, da GPS di 52 km per l'ora, mi sa questo è veramente il limite fisico del tri-ride, oltre a diventare suicidio. E mi fermo lì, adesso vado tranquillo. Grazie, ciao, buona giornata.